e nel frattempo siamo arrivati al diciannovesimo concorrente in gara con un inedito Cristian ci sei dal backstage? Sì scusa Francesca sono Alfredo ho sostituito Cristian perché ha detto boh vuole intervistare gli uomini non ho capito il perché comunque io intanto sono qui a intervistare Tomba Maria ciao e qua con un inedito come ben sapete e è giovanissimo quanti anni hai? 18 18 anni allora con questo inedito cosa vuoi trasmettere? Si intitola niente mi potrà affermare voglio trasmettere passione determinazione infatti si intitola niente mi potrà affermare e verità e onestà perfetto molto interessante vai pure grazie Alfredo grazie grazie mille passione determinazione Gianfranco sentito? Io volevo dire aspetta che mi accendo volevo dire a tutti che sono felicissimo e voglio dare una botta di gioia ti vedo tanto tanto gioioso si si sono gioiosissimo un po' meno ho vinto al super una lotta beato te beato te 12 euro ho vinto sono tanti eh bravo complimenti mi hanno giocato i 14 successone Maria Tomba grazie mille ciao Maria buonasera buonasera a te allora un brano inedito viene un pochino più avanti prendiamoci la luce anche il fotografo pronto ad immortalare che cosa ci canti? niente mi potrà affermare niente ti potrà affermare il palco tutto tuo Maria Tomba grazie mille piango ogni volta che ci penso parlo ogni volta senza senso grido per potermi liberare vado niente mi potrà affermare ho sempre finito di essere qualcun'altra una maschera indossavo e ora sono stanca del giudizio di me stessa mi hai dettato dagli altri e adesso dimmi dove sono tutti quanti il silenzio fa paura ma non mi abbatto quando senti col prendo e parto per evadere da tanta ignoranza con eleganza con eleganza e poi sono sempre quelli che la fanno franca piango ogni volta che ci penso parlo ogni volta senza senso grido per potermi liberare vado niente mi potrà affermare e scrivo stringo forte la mia mano guardo e faccio come un ora che non penso un mondo migliore di rispetto con il suo valore io non sono un poeta e neanche un cantautore ma di storie me ne intendo di occhi pieni di bagliore di chi sogna tante cose ha paura di sognare in questo mondo non si sogna non si può neanche gridare i giovani che scrivono sui cellulari come se non ci fosse né un piano né un domani domina il silenzio di chi non sa parlare la politica di un mondo che si fa solo del male ma io sono di un'altra generazione che il silenzio l'ha sentito da mille altre persone e quando ti senti dire che non c'è la verità la possibilità della realtà guarda qua è la prospettiva di chissà solo sbaglierai la luce di speranza del futuro della libertà e quando ti senti dire che non ci senti dire che non ci sono le cose Vengo ogni volta che ci penso parlo Ogni volta senza senso grido Per potermi liberare vado Niente mi potrà fermare Grazie Maria Domba Brava, brava Maria Grazie mille Brava Prendi questo applauso Vieni, vieni, fai un passo avanti Guarda quando c'è un applauso bisogna proprio abbracciarlo Complimenti Grazie mille Sei contenta? Contentissimo Grazie, bocca al lupo per tutto Posso fare una dedica? Certo che puro La vorrei dedicare a mia madre e mio padre Che oggi non sono qui e volevo dedicarla a loro Grazie 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 Maria Grazie mille Grazie mille Grazie mille